Buongiorno, Tommaso. Buongiorno, monna. Che c'è? Mi sono svegliato tardi anche oggi come riscansa fatiche? No, ti sei svegliato al momento giusto. Tommaso, sei stato bravo a resistere. Fai così. Sbaglia sempre per conto tuo. E così che fanno i signori? No, i signori non c'entrano. Fanno così le persone che vogliono essere felici. Buongiorno, amore mio.